benvenuti al terzo appuntamento del ciclo di meditazioni quaresimali di sua eminenza al cardinale giuseppe bettori un'altra parte della passione secondo san marco stasera e come anche nelle sere precedenti il racconto della passione sarà intercalato dalla musica che un anonimo autore che ha lavorato qui in cattedrale ha composto proprio con questa finalità cioè di essere intonata appunto durante la lettura della passione oltre a questa passione molto molto severa come si conviene anche appunto al all'anno al periodo dell'anno liturgico verranno eseguiti due responsori per la settimana santa composti da marco da gagliano anche marco da gagliano è stato uno dei anzi forse direi il compositore più famoso che questa cattedrale ha avuto in passato vissuto fra 5 e 600 è stato un autore anche non solo di tantissima musica sacra ma anche di opere è uno dei primi autori autori di opere profane la dafne per esempio rappresentata agli inizi del 600 insomma un autore di primo piano di tutto rispetto i due responsori saranno eseguiti il primo durante la narrazione della passione e l'ultimo il secondo invece dopo l'esegesi che sua eminenza farà appunto del del testo del vangelo di san marco per concludere diciamo appunto con la musica questo appuntamento gli esecutori di questa sera sono la cappella musicale della basilica di san lorenzo a firenze insieme ad un gruppo di cantori che poi sono quelli che vedete senza la tunica e che prendono il nome di lilium cantores sono appunto dei solisti entrambi gli ensemble sono diretti dal maestro umberto cerini vangelo secondo marco capitolo 14 versetti dal 53 al 72 condussero gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti gli anziani e gli scrivi pietro lo aveva seguito dal lontano fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro gesù per metterlo a morte ma non la trovarono molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo il falso contro di lui dicendo ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde il sommo sacerdote alzatosi in mezzo all'assemblea interrogò gesù dicendo non rispondi nulla che cosa testimoniano costoro contro di te ma egli taceva e non rispondeva nulla di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli sei tu il cristo il figlio del benedetto gesù rispose io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nuvi del cielo allora il sommo sacerdote stracciandosi le vesti disse che bisogno abbiamo ancora di testimoni avete udito la bestemmia che ve ne pare tutti sentenziarono che era reo di morte alcuni si misero a sputarli addosso e abbendargli il volto a percuoterlo e a dirgli e i serbi lo schiaffeggiavano 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 Allora 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 Per tutti i nus, per tutti i nus. Grazie a tutti Oh Dieu! Grazie a tutti. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote. E vedendo Pietro, che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse, Anche tu eri con il Lazzareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo, Non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti, Costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo, i presenti dicevano di nuovo a Pietro, Ma egli cominciò a imprecare e a giurare, Non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto, Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. Entriamo nella terza parte del racconto della Passione del Signore, secondo Marco. E veniamo condotti nel primo momento processuale della vicenda, quello che si svolge di fronte all'autorità della società giudaica, e ha come protagonisti principali dell'azione contro Gesù i sommi sacerdoti. Gesù, arrestato nel potere del Gezzemani, viene condotto nel palazzo del sommo sacerdote, dove si svolge un interrogatorio dell'imputato, un interrogatorio che va chiarito nella sua natura e nei suoi attori. Nel corso degli ultimi due secoli, le opinioni attorno a cosa sia veramente accaduto, anche solo cosa Marco narri essere accaduto, si sono moltiplicate e fronteggiate tra loro. Alcuni vi hanno visto più o meno solo un'idenza informale, una specie di audizione volta a raccogliere prove contro Gesù da esibire davanti all'autorità romana. Altri invece vi hanno riconosciuto un processo formalmente eseguito secondo le procedure in vigore nel giudaismo dell'epoca, per alcuni in modo corretto, per altri invece con modalità non corrette e soprattutto secondo un pregiudizio che ne ha viziato fin dall'inizio il risultato. L'impressione che riceviamo dalla narrazione di Marco è che questi voglia dirci che Gesù fu sottoposto a un giudizio dall'autorità giudaica formalmente competente e formalmente costituita come sinedrio. Se infatti il racconto inizia descrivendo nelle componenti del sinedrio i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli iscrivi, dal momento che vuole mettere in rilievo il ruolo preminente del sommo sacerdote, poi però esplicita che seppure la vicenda viene mossa dal sommo sacerdote e con lui dai capi dei sacerdoti, essa coinvolge, dice Marco, tutto il sinedrio. Al sinedrio, un consiglio di governo religioso del mondo giudaico, che era composto di 71 membri, competeva regolare la vita religiosa e civile della nazione, che però, essendo peraltro sotto il governo romano, in genere doveva ricorrere a quest'ultimo rappresentante dell'impero per l'esecuzione delle sentenze, qualora esse fossero state sentenze capitali. Gesù è dunque posto a confronto con l'istanza suprema del potere giudaico e della interpretazione della legge, che era competenza di esso, del sinedrio. Gesù non è vittima di una sommossa, ma di un giudizio, che viene svolto secondo le modalità proprie dell'esercizio della giustizia nel contesto socio-religioso della Giudea del suo tempo. Il lettore del Vangelo è invitato a confrontarsi con questo giudizio e a prendere posizione su quanto in esso emerge, come prove e come contraddittorio. Ma si tratta, accennavo, di un giudizio pregiudicato. I giudici, infatti, prima ancora di confrontarsi con le prove, hanno già deciso di metterlo a morte. Il consesso giudicante sarà pure l'organo supremo del sinedrio, riunito in regolare assemblea, benché questa assemblea non si svolga nel suo luogo ufficiale di riunione, ma nell'abitazione del Sommo Sacerdote, forse per ossequio a chi ha preso l'iniziativa di tutta questa vicenda. Il processo avrà pure i crismi esteriori della regolarità formale, in quanto vengono ascoltati dei testimoni, viene fatto un interrogatorio dell'imputato, ma la sentenza è già presa nel cuore dei giudici. Era una volontà antica, più volte emersa nel racconto del Vangelo. Già tre capitoli prima lo dirono i capiti e i sacerdoti, e gli scrive e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Ecco, questa volontà antica ora giunge al suo esito. Qui si sta vivendo quanto più volte denunciato nei Salmi, vale a dire la persecuzione del giusto innocente. Dice il Salmo 37, il malvagio spia il giusto e cerca di farlo morire. O il Salmo 54, stranieri contro di me sono insorti e prepotenti, insidiano la mia vita, non pongono Dio davanti ai loro occhi. Quanto qui si compie è ben più di un caso giudiziario. È il confronto finale fra il rivelatore ultimo e definitivo della volontà di Dio e difensori di una religiosità chiusa nella sua incapacità di scorgere Dio che si rivela. È un confronto che dura nei secoli, è un confronto che ci riguarda. Tutto però viene rivestito, abbiamo detto, nelle forme di un giudizio. E un giudizio ha bisogno di prove, di accusa e ha bisogno di difesa. A loro volta devono essere esibite da testimoni. Ma subito appare che le testimonianze contro Gesù si rivelano inconsistenti. una testimonianza contro Gesù non la trovavano, dice l'Evangelista. Ovvero si mostrano false e contraddittorie. Il problema della contraddizione in cui cadono i testimoni è decisivo, perché la legge a riguardo è esplicita. Colui che dovrà morire, diceva il libro del Deuteronomio, sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre testimoni. Non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo testimone. L'atmosfera di falsità, di incongruenza, di ambiguità, di incoerenza, in cui si muove il processo davanti al sinedrio, costituisce uno sfondo che contrasta con colui che ha sempre detto la verità e che si presenta agli uomini come la verità. Di nuovo ci aiuta a interpretare tutto questo il salterio. Contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Il Vangelo di Marco esplicita una di queste testimonianze confuse e contraddittorie che non permette ai giudici di dare fondamento all'accusa. Si tratta di parole che, secondo i testimoni, Gesù avrebbe pronunciato a riguardo del Tempio. Lo abbiamo dito mentre diceva «Io distruggerò questo Tempio fatto da mano d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». È una delle frasi che abbiamo ascoltato nel canto. Di un giudizio severo di Gesù verso il Tempio si hanno riscontri nei precedenti capitoli del Vangelo di Marco. La cacciata dei venditori dal Tempio, la predizione della rovina del Tempio. Ma in essi non si trova la frase attribuita a Gesù nella forma che nel processo viene denunciata. È per questo allora che questi testimoni vengono introdotti dall'Evangelista dicendo «Si alzarono a testimoniare il falso contro di lui». Ma la stessa affermazione è considerata vera da Matteo e da Giovanni e nello stesso Vangelo di Marco la si ritrova questa volta senza obiezioni tra gli insulti dei passanti sotto la croce. Qui la falsità denunciata dal racconto di Marco non sta dunque nella ripetizione materiale delle parole di Gesù ma nella incapacità di offrirne una interpretazione coerente cosa che è possibile solo nella fede che sa che quel Tempio fatto non da mani d'uomo è la ricostituzione del popolo di Dio che scaturisce dai piedi della croce là dove inizia la comunità dei credenti con la professione di fede del centurione romano lo ascolteremo suo tempo e andrà a fondarsi questa comunità sul corpo del risorto al terzo giorno. Che questa sia la strada per comprendere come possa essere considerata falsa una parola che pur appartiene all'insegnamento di Gesù lo insinua allo stesso Evangelista che dopo aver riportato la frase commenta ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Da questa testimonianza falsa da testimonianza falsa questa parola si è trasformata ora in testimonianza contraddittoria non concorde perché l'errore che sa porta con sé è che fuori dalla fede in Gesù quella frase ma tutte le parole di Gesù tutto il suo insegnamento diventa incomprensibile anzi diventa fonte di contraddizioni è sempre la fede che deve guidarci nel guardare al mistero di Gesù nel metterci all'ascolto della sua parola anche e soprattutto in questo momento risolutivo della sua passione. Laddove non si riesce a giungere con le testimonianze si cerca allora di arrivare mediante il confronto diretto con l'imputato attraverso l'interrogatorio e l'interrogatorio lo fa lo stesso Somma Sacerdote che cerca anzitutto di trovare proprio in Gesù il pretesto per rendere credibili le testimonianze finora apparse false e contraddittorie. Ma Gesù sfugge al tranello non risponde egli reagisce come il giusto perseguitato dei salmi salmo 38 io come un sordo non ascolto come un muto non apro la bocca sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere perché io attendo te Signore tu risponderai Signore mio Dio l'atteggiamento di Gesù il giusto sofferente diventerà modello anche per i suoi seguaci nelle persecuzioni e nelle sofferenze scriverà la prima lettera di Pietro Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme egli non commise peccato e non si trovò inganno nella sua bocca insultato non rispondeva con insulti maltrattato non minacciava vendetta ma si affidava a colui che giudica con giustizia di fronte al silenzio di Gesù il Sommo Sacerdote giunge allora alla questione decisiva quella della identità di colui che gli sta di fronte perché alla fine ciò che decide di noi di fronte a Gesù è come rispondiamo alla domanda sulla sua persona chi è Gesù il Sommo Sacerdote in modo astuto vuole che sia Gesù stesso a rispondere ma non può fare a meno di indirizzare la risposta verso la questione centrale se cioè Gesù sia o no il Messia e quale sia quindi il suo rapporto con Dio sei tu il Cristo il Messia il figlio del Benedetto chiaro sulla bocca del Sommo Sacerdote l'espressione figlio del Benedetto Benedetto è un titolo che sta al posto del nome di Dio ma inteso in senso ampio come è possibile pensarla nel contesto del giudaismo del tempo vale a dire come designazione di un uomo che è stato scelto da Dio ma nella risposta che il Sommo Sacerdote ottiene da Gesù e poi mette e poi nella risonanza che la stessa espressione ha nei lettori credenti del Vangelo questa designazione va ben oltre il significato che poteva dargli il Sommo Sacerdote e allora il Figlio del Benedetto indica un legame unico di Gesù con Dio e Gesù risponde a questa domanda risponde con nettezza io lo sono anzi alla lettera bisognerebbe tradurre io sono e io sono è il nome con cui Dio aveva rivelato se stesso a Mosè dall'arroveto ardente anche se l'espressione potrebbe anche corrispondere non voglio negarlo a un semplice netto e per questo non meno risolutivo sì io lo sono sì io sono Dio ma soprattutto Gesù aiuta a comprendere il senso della sua risposta aggiungendo una frase che si compone di due citazioni dell'Antico Testamento e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo sono parole in cui confluiscono due linee teologiche diverse anche se complementari la prima è quella che rappresenta il pensiero del messianismo regale messia re potremmo definirlo il messianismo classico di cui sono testimoni i salmi affermare che il messia è colui che è seduto alla destra della potenza riecheggia ad esempio il salmo 110 oracolo del Signore al mio Signore siedi alla mia destra finché io ponghi i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi la parola potenza di nuovo è un modo di disegnare la divinità in particolare nell'atto del suo rivelarsi agli uomini soprattutto mediante la parola nello splendore del suo giudizio e questo favorisce il collegamento tra questo testo messianico e l'altro che viene tratto invece dal libro di Daniele quindi stiamo in un altro contesto in contesto apocalittico dove compare la figura misteriosa del figlio dell'uomo noi sappiamo che Gesù aveva sempre designato se stesso così io sono il figlio dell'uomo figlio dell'uomo è espressione che identifica Gesù con colui che Dio invia alla fine del tempo così che colui che in quel momento appare come giudicato e omigliato applicando a sé queste parole si rivela in realtà come il giudice escatologico della storia e colui che al suo termine verrà glorificato dal Padre tutto questo finalmente si può rivelare in totale libertà tutto il Vangelo di Marco è percorso dal cosiddetto tema del silenzio Gesù fa tacere tutti coloro che vogliono dire chi lui è i demoni i guariti e così via ora invece questo silenzio può essere infranto perché il contesto di umiliazione e sofferenza in cui viene rivelata la messianicità di Gesù suo rapporto unico con il Padre non può far correre il rischio di incomprensioni a chi lo riconosce con troppa facilità come il Messia senza accettarne il mistero della croce ormai la croce si staglia di fronte a Gesù e ogni precauzione può essere rimossa il mistero della sua persona finalmente può essere pienamente svelato solo in questa prospettiva la fede è autentica in questa prospettiva la fede diventa però anche una scelta esigente per chi seguendo Gesù dovrà poi prendere su di sé la propria croce una fede senza prezzo è vuota e falsa la reazione del Sommo Sacerdote di fronte alle parole di Gesù corrisponde a quanto ci si attende secondo la legge davanti a una bestemmia stracciarsi le vesti come segno di estremo dolore di profondo orrore ma in che cosa consiste la bestemmia perché il Sommo Sacerdote giudica queste parole una bestemmia nel fatto che Gesù rivendica per sé l'identità di Messia Re di figlio dell'uomo signore della storia di figlio di Dio all'unito in modo unico è insieme l'insieme di queste rivendicazioni fatte da un uomo che agli occhi dei suoi nemici appare come un oppositore della legge e del Tempio che può tradursi nella condanna per due bestemmia e nella conseguente sentenza di morte una bestemmia doveva essere punita con la morte secondo la legge sta qui l'irriducibilità della fede cristiana rispetto a ogni altro atteggiamento umano ciò che per gli uni è il contenuto stesso della fede per gli altri una insensatezza blasfema che va rifiutata proprio perché pone qualcuno al di sopra dell'uomo e ne fa l'unico suo redentore giudice assoluto rifiutare questa presenza negarla significa pensare che si può bastare a se stessi sprofondando nell'autosufficienza che illude che isola accettando Gesù l'uomo invece ricondotto alla sua misura di creatura alla sua condizione di mendicante di senso di assetato di vita ma colmato dal dono della potenza salvifica di Cristo tutto questo proprio nel tenere unito il riconoscimento del Signore e Salvatore della storia con la contemplazione dell'uomo umiliato e schiacciato nella passione in un legame indissolubile questo è lo scandalo della fede unire queste due dimensioni della persona di Gesù questa dimensione umiliata della presenza di Gesù viene ulteriormente accentuata dalla reazione dei presenti che chiedono che chiudono la farsa del processo con un insieme di dileggi e violenze dal contesto questi alcuni che gli sputano addosso lo bendano lo percuotano gli chiedono di profetizzare non possono che essere membri del Sinedrio così aggiungono i servi quelli che erano stati inviati ad arrestarlo questi lo schiaffeggiano gli sputano come gesto di scherno e maltrattamento ma anche come punizione per una colpa come oltraggio di chi è stato riconosciuto reo di bestemmia gli venono in volto e lo percuotano un gioco manesco con cui si chiede di indovinare chi sta colpendo con evidente finalità di scherno a riguardo delle presunte facoltà profetiche di Gesù che si vorrebbe così smascherare come un falso profeta lo prendono a schiaffi con un processo di imitazione tra padoroni e servi che non lascia nessuno innocente della violenza che si abbatte su Gesù accettando di subire questa umiliazione fisica Gesù si assimila fino in fondo al servo del Signore di cui ci aveva parlato il libro di Isaia non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi disprezzato il reietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosci il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tozzatori e non aprì la sua bocca il racconto a questo punto lascia in sospeso la vicenda di Gesù e si focalizza sulla figura di Pietro all'inizio era stato annotato che Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del suo palazzo del suo mosacerdote e se stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco dunque apparentemente non tutti i discepoli avrebbero abbandonato Gesù per fuggire Pietro sembrerebbe aver continuato a seguirlo ma che questa non sia più una sequela l'evangelista lo evidenzia notando che il suo è un seguire da lontano Pietro non è con Gesù anzi è lontano da Gesù mentre questi viene condotto al processo è talmente lontano che ha preso posto non vicino a Gesù ma tra i servi quegli stessi servi che avevano arrestato il suo maestro una scelta di campo si direbbe avversa ora il racconto torna a interessarsi di Pietro e specifica che gli sta giù nel cortile lasciando intendere che la sala del processo di Gesù fosse collocata in alto non solo lontani dunque ma anche su due piani diversi tra il maestro e il discepolo si è scavato un solco profondo ormai apparentemente incolmabile nel cortile Pietro c'era stato detto e attorno al fuoco a scaldarsi nel freddo della notte primaverile nella nostra traduzione leggiamo che gli sta seduto tra i servi scaldandosi al fuoco ma l'espressione del testo greco è un po' diversa Pietro si sta scaldando alla luce diremmo al bagliore del fuoco questo ben si lega con quanto avviene ora una delle serve del sommo sacerdote alla luce di quel bagliore lo riconosce lo guardò in faccia e gli disse anche tu eri con il Nazareno con Gesù mentre di sopra nella sala i giudici non riescono a riconoscere in Gesù il Messia qua sotto una serva riconosce in Pietro uno che stava con Gesù un discepolo ma Pietro nega il riconoscimento rifiuta la propria identità quello che egli è stato dalla sua vocazione fino a poco fa lungo tutto il corso degli anni di itineranza per la Galilea e la Giudea rispondendo non capisco che cosa dici Pietro tenta di tirarsi fuori da tutta la vicenda non capisco la vicenda che si consuma a lui a pochi passi da lui un tentativo di non compromettere la propria vita con quella del Maestro l'esatto contrario della sequela a cui Gesù un giorno lo aveva chiamato il tentativo si traduce anche in un gesto fisico quello dell'allontanamento dal luogo Pietro lascia il cerchio dei servi attorno al fuoco e si dirige verso l'atrio del palazzo ma la serva lo segue prima ancora lo segue il canto di un gallo il successivo passo del racconto consiste nel fatto che il confronto smette di essere tra Pietro e la donna e diventa un confronto pubblico perché questo si mette a dire a chi sta attorno costui è uno di loro i discepoli hanno abbandonato Gesù ma non possono staccarsi totalmente da lui nella coscienza della gente sono una cosa sola con il loro maestro per quanto se ne distacchino non possono cancellare quella comunione di vita che per anni li ha tenuti uniti a lui agli occhi degli altri costituiscono una cosa sola una realtà unica sono loro uno di loro possiamo abbandonarlo il Signore ma non smettiamo di appartenergli ai lettori del Vangelo a noi viene così ribadito l'invito a ritenersi una cosa sola con Gesù a non rinegare quel che è evidente a tutti cioè l'unità tra il Signore e la sua comunità ma Pietro nega di nuovo a questo punto si inseriscono altri interlocutori non meglio definiti si direbbe però l'intero gruppo dei presenti ora i testimoni dell'identità di Pietro hanno acquisito una dimensione giuridicamente significativa prima era una per più donna a condannarlo ora invece non è più una voce ma sono ben più di due voci che accusano Pietro di essere uno dei discepoli l'identificazione è valorata dal riconoscimento di Pietro come un Galileo cioè la regione la Galilea in cui era sorti il movimento legato al Nazareno la reazione di Pietro questa volta più rabbiosa non solo nega ma valora la negazione con impregazioni giuramenti dove si indirizzi il suo imprecare l'anathematizion non è facile dirlo potrebbe essere un maledire se stesso come forma di avvaloramento del giuramento che egli non conosceva Gesù ma forse più profondamente potrebbe essere un maledire quel Gesù che lo si vuole costringere a riconoscere come suo maestro questo in seguito verrà spesso chiesto ai martiri cristiani non solo rinegare la propria fede ma maledire quel Signore in cui dicono di credere il distacco della fede non può mai essere qualcosa di innocuo o si sta con Gesù o contro di Lui o lo si riconosce Signore e lo si benedice o lo si disconosce e lo si maledice la fede è una cosa seria ed è cosa che ha a che fare con la persona di Gesù questa è la decisione da prendere quel momento Pietro prende questa decisione lo fa in modo negativo non conosco quest'uomo di cui parlate la presa di distanza da Gesù è totale non solo Pietro se ne è allontanato ancor più fisicamente passando dal cortire all'atrio del palazzo ma il suo distacco da Lui si approfondisce dal dichiarare di non capire di che cosa si sta parlando e dal negare di aver avuto a che fare con Gesù come aveva fatto finora nelle due precedenti accuse e ora egli giunge ad affermare di non conoscerlo e tutto questo viene detto senza che Pietro nomini mai il nome di Gesù è un estraneo per lui così vorrebbe far credere ma il canto di un gallo che risuona nella notte per la seconda volta lo risveglia dalla sua illusione quella di prendere le distanze da Gesù senza doverne rendere conto quel canto era stato predetto da Gesù prima che due volte il callo canti tu tre volte mi rinnegherai lo aveva detto al termine della cena e Pietro ora ricorda con esattezza quelle parole e il ricordo lo porta al pentimento un pentimento profondo che gli esprime nel pianto scoppiò in pianto dice la nostra traduzione ed una delle possibili traduzioni di un testo greco non semplice la frase potrebbe anche essere infatti resa con uscì fuori e pianse o con si coprì il volto e pianse o ancora si prostrò buttata a terra e pianse in ogni caso il gesto indica un distacco totale dal suo precedente comportamento una profonda prostrazione esteriore o interiore che nesca un cambiamento radicale è il pentimento la conversione che le lacrime rendono manifesta l'intero episodio del rinnegamento sta a mostrare che nessuno può presumere una fedeltà al Signore affidata alle proprie sole risorse nessuno neanche chi come Pietro aveva detto davanti al Signore anche se tutti si scandalizzeranno io no anche se dovessi morire con te io non ti rinnegherò nessuno neanche il primo dei discepoli colui dalle cui labbra era uscita la più alta professione di fede nel Vangelo tu sei il Cristo quella professione di fede per cui Gesù viene in quel momento condannato nella sala al piano superiore mentre nel cortile quello stesso discepolo lo sta rinnegando ma questo stesso episodio ci dice dice a ciascuno di noi a ogni discepolo a ogni lettore che dal rinnegamento si può uscire che il pentimento è sempre possibile che anche questo succedersi di rinnegamento e pentimento va compreso dentro il disegno divino di salvezza come mostra che esso è parte di ciò che Gesù ha predetto perché anche in questo si manifesta la volontà di misericordia di Dio o che stai di città Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.